Tutto a posto Raffae, la roba è al sicuro, non rischiamo più nulla, non c'è più pericolo, ora stiamo a posto, tutto ok. Ma tu sei pazzo, non l'avete fatto, non l'avete fatto e non è perché le quattro soldi e roba gaitate, è più sgarra, ma che ti crede di esso? Che ti crede di esso? E stare niente di chiacchiere questi uaglioni, sapete? Ma ricordate, e ricordate buono, teni i giorni contati, sapete? Tutti abbiamo i giorni contati, l'importante è capire chi li conta. Angelo! Angelo stai ca! Angelo! Angelo! Su sei vista Angelo? No, non l'ha visto proprio. Angelo! Angelo, ma dove stai? Angelo! Uè Carmine! Uè, Imma, hai visto Angelo? Veramente è tutta la mattinata che ho cercato, ma non stavo con te. No, veramente, pure io sto cercando. Non sono riuscita proprio a lo trovare. Imma! Oh, hai visto Angelo? No, Rosa, non sta nemmeno ca! Ma nonna, mi sono preoccupata, se è successo qualcosa. Sì, vabbò, chiamami a chi l'ha, te la? Ci faccio mettere una mano a lo cercare. Eh, chiamami a Ciro, che è la sua sette chiude con Cicillo per mezza piazza. Ciro, hai visto Angelo? Ma Ron, Ciro, ma sta la lingua ogni tanto d'aiuto? L'hai visto, sì o no? Eh, vabbò, Rosa, ma che ne sapesse? Tu vieni con me? Mi dà una mano a lo trovato. Sì, sì, però, ma muovimaci, vabbè. Angelo! Angelo! Oh, oh! Angelo! Correte! Angelo sta male! Oh, Angelo! Ma, Dossa, che è successo? Angelo! Lasciatelo respirare, ragazzi. Angelo! Non è successo niente, dai. E' stata solo una brutta paura, non è successo niente, niente. Angelo, non è successo niente, niente. Sì l'obietà, il suo rumore è niente, casa senta, ma noi non ci fa niente, niente, e il suo rumore è niente, il suo rumore è niente, ma noi non ci fa niente, 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 è niente, niente, il suo rumore è niente, 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 su rumore è niente, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma come avete fatto? È una parola. È un anno che studiamo. Quante ne siete? Guarda un po'. Almeno la puntualità. Siamo in parecchio. Chiudete questa porta? Accostatela. Allora, io ve l'ho spiegato bene bene la differenza quando l'accordo è maggiore o quando l'accordo è minore. L'accordo maggiore è tuoste. Mentre l'accordo minore è musha. L'accordo maggiore è tuoste. L'accordo minore è musha. Ha sentito la differenza? Ciro, ha sentito la differenza? Oh, ma questo non parla male. Sa bene, c'è una sentita la differenza, si capisce. E no, imma, perché a me mi sembra che non ha capito la differenza. Allora, a questo proposito, facciamo un esperimento. Io vi suono un accordo dietro l'altro e voi mi dovete dire che accordo è. Se è maggiore o se è minore. O meglio, se è tuoste o se è musha. Ok. Tuoste. Musha. Tuoste e musha. Musha. Eh, che si vuole? Bravi, così si fa. Così si fa. Ok, bravissimi. Permesso? Venite, entrate, entrate. Uè, Isabel, sono due compagni e amiche, l'hai incontrata alla stazione, ma non sono italiani però. E' fatto buono, e' fatto buono. Allora, venne. Accomandatevi. Mo ci penso io. Da dove venite? Eh, e' allora che parlo a fare? Taggi, ritte, carunzo, italiani, come fanno a te rispondere? Mo ci pensi? Quello li, cicillo, vuole sapere da quale paese venite? Eh, Albania. Eh? Albania vuoi dire? Eh, quello, mo ti ha ritte che non sanno parlare l'italiano, e poi voi sapete mille loro come si chiama il paese loro. Uè, ma chi c'entra? Albanese, è sempre ritte Albania. Ma, come dici tu? Gua, te ne hai proprio la fazzella albanesa. Ma perché? Come sono le fazzelle albanese? Chi si vengono a rubare a casa nostra? Sono tutti puttani e marioli. Eh, e tu invece? Eh, noi già si massacchiamo, mancano solo loro. Secondo me, ognuno se avesse a questa casa soglia. Eh, e se uno una casa non la tiene? Uè, ma che c'entra? Chi se so clandestino? Anna, te ne ho permesso. E tu lo tieni o lo permesso? Oh, cicillo, ma vuoi fermi o no? Oh, aiuto! Ma che figura di merda stiamo a fare con l'albanese? Ma se a noi in Albanese ci trattessero così? E chi ci va in Albania? Eh, non si può mai sapere. Ma insomma, con gli stranieri, che figure facciamo? Eh, questi stasera rimangono a dormire qua. Va bene? Perché l'ho deciso io. Così domani mattina, quando ci svegliamo, gli facciamo vedere tutta Napoli. Domani? Ma perché non gli facciamo vedere mo'? E' tra lì! Accompagnami qui, sulla te casina amiche, e te porti per il quartiere, la tua sola non si vede, Ma se vede tutto n'est, e sarà bene e fin est, e capisci com'è bella, la città è bulla e chenelle. Com'è bella, com'è bella, la città è bulla e chenelle. Com'è bella, com'è bella, la città è bulla e chenelle. Non mi dispiace sulla mente, che all'orgoglio è che sta gente, si mortifico ogni giorno, e bella, ma ne che pediente. Che non dè nana coscienza, e non dè nana rispetto, come fanno a piglia su, quando è la sera e l'indoletta. Rindoletta e l'indoletta, quando è la sera e l'indoletta. Rindoletta e l'indoletta, quando è la sera e l'indoletta. Rindoletta e l'indoletta, quando è la sera e l'indoletta, se a pagare tiene fretta, verso 5 la mattina, quando è la sera e l'indoletta. Che è permesso tutte cose, non perché te ne ho direte, ma perché sei sempre qua, è soltanto per dispietta. Per dispietta, per dispietta, è soltanto per dispietta, per dispietta, per dispietta, e per dispietta. E dispiace solamente, da l'orgoglio che sta zendo, se mortifico ogni giorno, e non c'è mai più ma cuorra, e nessuno può fare niente, su su gambe e caramella, com'è dolce, com'è bella, la città è bulla e genella. Com'è dolce, com'è bella, la città è bulla e genella. Com'è dolce, com'è bella, la città è bulla e genella. 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 Com'è dolce, com'è bella, la città è bulla e genella. Com'è dolce, com'è bella, la città è bulla e genella. Ma io che sono musicante e mi sento innamorato, canto e suono e suono e canto che sta bella e genella. E perché sono innamorato, perché forse ci sono nato, ma venite quando è bella, la città è bulla e genella. Com'è dolce, com'è bella, la città è bulla e genella. Com'è bella, com'è bella, la città è bulla e genella. Com'è bella, com'è bella, la città è bulla e genella. Com'è bella, com'è bella, la città è bulla e genella. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, chi si non ha capito che si non è qui? Noi qua dobbiamo lavorare. Anzi, deve lavorare. Da qua ve ne dovete andare. Forza. E che giornata stamattina? Prima si muovono. Quanto è la parete? È otto metri. Per le otto metri, eh? È questo? Un momento. In cura. Vai, piano. E tu vuoi? Oh, ma ve l'hai preso? Aspire. Ma tu metri meglio non tiene, no? Oggi abbiamo soldi qua. Ah, va bene. Comunque è 12 metri. Quindi abbiamo detto. Ah, se tu metri buoni non teni, perché le città non lo cagherai. Questo è meglio. È io tu? Ah. Perché si ha scritto il nome tu? È normale. Fa piacere. Ma buona vannanza. Questa merita. Otto per dodici. Ma dici da me, sei tu ma, stai a fare due conti. No, io sto che dicendo, tu devi solo ascoltare. Ah, chiaro. Otto per dodici. Giusto? Noi andiamo al commercialista. Io mi sto commercialista, raggiù. Allora, se fosse per dieci, fosse ottanta. Ma quello è per dodici. E chi è il problema? Ah. Come mi fa? Facciamoci il ripetere il pavimento e l'untare. Ma sì, ma che ce ne fai? Forza. Allora, portate il materiale dentro. Ehi, ma che state facendo? Ah, gli olivi te la metti. Il campo è faticato. È il Ducaniero. No, no. E chi tocca niente? Perché la scala. Come una vestita sola? Eh, come una vestita sola. Come una vestita sola. Maron. Guarda, 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 guarda. Ti ho detto, nera io. E io mi sto arrivando. E se posso arrivare? Mi sto arrivando. Noi, ma che state facendo? Dobbiamo ristorare il locale. Che vi da fare? Un po' di grata volta. Dobbiamo ristorare il locale. Qua ci viene una grande sala corso. I Broglie, Beach, tutte grande stiglie. Capito? E noi? E noi chi? Noi, e noi. Noi. E voi chi siete? Gli inquilini? E una specie, stiamo sempre qua. E voi ve ne dovete andare. No, noi non ce ne andiamo da qua, capito? Noi non ci muoviamo. No. Basta. Basta. E tu stai zì. Senti, a noi non ci comanda nessuno. Lui parla quando gli pare. Vuoi parlare? Ma è buono, vuoi giù. No, non vuole parlare. Ma vuole... Oh. È permesso? Prego, prego. Prego, prego. È arrivato, eh? Ma che è il suo burde? Prego, prego, prego. Prego, prego, prego. Prego, prego, prego. E adesso basta. Forse non mi sono spiegato bene. Qua noi stiamo lavorando per Raffaele Capasso. Raffaele Capasso. Orus. Ah, Orus. E Orus. Ah, Orus. E Orus. Orus. E Orus. E via! Fuori, fuori, via, via, fuori, 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 fuori. No, fuori. Dai. Grazie. 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 Aspetta. Dai, dai, dai. Uoi, che sta succedendo qua? E che ci fate voi a quest'ora? Eh, non sape, dicono che il nostro locale deve diventare una sala a corse E che noi ce ne dobbiamo andare Sì, non sape, ma si sono cagati sotto Hanno capito che con noi non si schede Sì Non si pazzia Sì, sì, sì Bravi, raga E quella S, che cosa rappresenterebbe questa S? Quella è la S di Saverio, però potrebbe essere pure la S di strada Perché noi stiamo sempre per strada, ma devono capire che è nostra Sì, ma potrebbe essere anche la S di speranza O la S di scognizzi O la S di stadva a corte Stadva a corte Stadva a corte Tanti cose succedono qua Stadva a corte Stadva a corte Stadva a corte Stadva a corte Tanti cose succedono qua Stadva a corte 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 Amil, faccio l'appassionato e beccirillo, gente che avverravi dove capil. Amil, creatura, Amil, faccio l'appassionato e beccirillo, gente che avverravi dove capil. Amil, faccio l'appassionato, gente che avverravi dove capil. Amil, faccio l'appassionato, gente che avverravi dove capil. Amil, faccio l'appassionato, gente che avverravi dove capil. di pensieri, aer, 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 aer. No, 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 no. Ah, creatura, ma basta cam'nà per sottemurà. Si n'i de mezza via senza lucra, voi parla teni de luci e recreatura. Hai z'ada paceze, z'ave paura. Si n'i de iban miezza stagità, chi passa e guarda ad avvenza. Ah, ieri, passando in coppe piccole quartiere, mi s'oppenut in gap stipendiere. Hai, ieri, hai, ieri, hai, ieri, dai, da, 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 da. Niente, non ditelo niente. Ma allora cosa vogliono? Boh, non si sa. E cosa urlano? Ma non urlano. E che fanno allora? Ci guardano. Gesù, ma fossero turisti? Bah, veramente sempre gente di qua. E non urlano. No! E allora non sono di qua. Comunque la soluzione è sotto controllo. E va bene, fatemi sapere i sviluppi. Ci sono novità? La situazione è tornata, la tranquillità, la normalità, tutto a posto. E dove sono andati? Boh, saranno tutti. E allora? E non si sa. Boh, chi so, non si sa. Chi voglia, non si sa. A due anni non si sa, ma non sapete proprio niente. A che servite? Rientrate tutti quanti. Aglio, te lo devo andare. Andiamo di qua. Angelo, tu mo' ti starei chiedendo a che servizio tutto questo nostro silenzio. vero? Invece è servita molto, perché tutti si sono accorti di noi e non hanno potuto dire, come al solito, eccoli qua i soliti napoletani, casinisti e rompipalle. Ti pare poco? Angelo, ti devo fare una domanda, Angelo. Tu hai mai ucciso qualcuno? No! Mi fa piacere. No, perché ti faccio questa domanda? perché ci sono tanti modi per uccidere una persona. Con un colpo solo, un poco alla volta, per un motivo, e senza motivo. Però, il problema è che si è sempre, come si dice, assassini. No, aspetta. Come dice Susetta alla televisione? Un killer. Angelo, un assassino. Ma tu che vuoi a me? Ma come che vuoi da te? Tu lo sai benissimo quello che ti sto dicendo, di cosa sto parlando. Tu e i compagni tuoi, quando la gente ti incontra, ti guarda la faccia e ti gira le spalle, perché voi portate la rovina, voi portate il dolore nelle famiglie. Lo capisci o no? Angelo, 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 che hai fatto? Non ti senti bene? No, non è niente. Mi passa, mi passa. Ma che passa, Angelo? Mi passa. Ma tu non puoi stare in queste condizioni, malevidi come ti sei ridotto. Ma insomma, tu devi uscire da questo inferno, a morte in che manetoia. Fiditi a me. Ti trovo un posticino in un cantiere. Certo, all'inizio non guadagnerai tanti soldi, però va buono lo stesso, no? Dai, dammi fiducia. Dammi fiducia. Andiamo, va bene. Salve! Sei cum... Grazie.